Bene, questo è un video dedicato alle donne per aiutarle a capire se il maschio che gli interessa, se l'uomo che gli interessa vuole rapportarsi a loro soltanto e esclusivamente da un punto di vista sessuale oppure se vuole stabilire una relazione di coppia stabile dove condividere diverse cose che possa andare avanti nel tempo. Ora, il tema è interessante e voglio far riflettere le donne su questa cosa. Sono esclusivamente le donne che chiedono di avere una relazione che vada al di là del sesso. Questa cosa non la chiedono gli uomini, non mi è mai capitato di incontrare un uomo che mi dica guarda sono relazionato con Tizia che però mi cerca solo per il sesso e al di là del sesso non vuole, io soffro tanto perché invece vorrei avere una relazione stabile di un certo tipo, ma lei mi cerca solo per il sesso. Ecco, questo gli uomini non lo chiedono. Quando dicono lo chiedono intendo il 99% degli uomini, poiché non esclude che ci sia quell'1% che invece possa chiedere una cosa del genere o possa lamentarsi di una situazione del genere. Mentre invece è una domanda molto frequente per quanto riguarda le donne. Ecco, perché c'è questa differenza? Questa differenza è dovuta al fatto che la spinta istintiva all'accoppiamento dell'essere umano maschio è diversa rispetto a quella dell'essere umano femmina, cioè la parte nostra più antica del cervello, che è il cervello rettiliano, il rene encefaro, ha esigenze diverse se si tratta di un maschio o se si tratta di una femmina, perché sono esigenze istintive, quindi l'istinto del maschio è quello, come quello della femmina, è quello della, diciamo, riproduzione, della sopravvivenza della specie. E ovviamente il maschio ha un istinto all'accoppiamento esclusivamente su più donne, con più donne, perché avere accoppiarsi con più donne porta ad una maggiore probabilità di avere una prole. E c'è un altro fatto importante, siccome nel corso dell'evoluzione il maschio non si è mai occupato praticamente dei figli, perché l'essere umano primitivo che è stato sulla terra, diciamo, circa un milione di anni, la parte della civilizzazione è una parte molto recente. Il maschio, diciamo, che vivere in branco, i gruppi umani vivano in branco, dove i maschi si occupavano della caccia, eccetera, il maschio dominante si accoppiava con la maggior parte di donne del branco, che accettavano di farsi accoppiare, di avere rapporti con il maschio dominante, perché era quello che a livello genetico gli forniva un patrimonio genetico migliore. Ma il maschio poi di fatto non si occupava della crescita dei figli, che venivano accuditi dal gruppo delle donne. Ecco quindi che c'è questa differenza. Tenete presente una cosa che uno potrebbe dire, vabbè, ma oggi non è che dobbiamo fare figli, dobbiamo copiarci, magari si tratta di donne che sono già, come dire, sulla soglia dei 50, già in menopausa, vicine, o che comunque non hanno intenzione di avere figli, no? E maschi che magari sono più o meno, insomma, che neanche loro vogliono avere figli. Ma questo non c'entra nulla, perché la decisione di non avere figli, qui ad esempio l'esistenza dei metodi anticoncezionali, è un fattore logico e razionale, cioè la nostra parte logico e razionale che gestisce questi fatti, la nostra parte emotiva invece gestisce l'istinto all'appoppiamento. E quindi, ad avere una relazione stabile, è particolarmente interessata la donna, che può essere anche una donna autonoma, che può vivere tranquillamente anche da sola, ma il suo istinto la spinge più verso una relazione stabile con un maschio, tra virgolette dominante, quindi che abbia un buon patrimonio genetico, che poi nei giorni d'oggi viene integrato in altri modi, ci sono modalità comunicative che può usare il maschio per essere, apparire agli occhi della donna come dominante, ma non è questo il tema. Mentre il maschio, diciamo, va alla ricerca di un accoppiamento. È ovvio che per avere questo accoppiamento può mentire, può tra virgolette, come dire, per passare una notte di sesso può fare promesse di matrimonio, ad esempio, perché sa, ad esempio, che la donna invece è sensibile a queste cose. Quindi è tipico, una situazione che accade frequentemente, è che il maschio dica semplicemente alla donna che si è alla ricerca di una compagna, di una relazione stabile, eccetera, eccetera, ma fa parte di un gioco delle parti, diciamo, che lui mette in atto soltanto per avere accesso alla sfera sessuale, ma in realtà il suo obiettivo è di carattere, è di carattere sessuale. E quindi le donne dopo, quando si rendono conto che il maschio le cerca soltanto per, diciamo, per motivazioni sessuali e basta esclusivamente, quindi la relazione si svolge e inizia e finisce in camera da letto, diciamo, senza altre condivisioni, si incavolano, dicono, ma come tu volevi qua invece adesso mi certi solo. E a questo punto subentra un meccanismo perverso, perché molte donne, pur soffrendo, pur non desiderando una relazione di questo genere, ci restano dentro. Cioè si lamentano, ma non fanno niente, ad esempio non chiudono la relazione, o comunque la chiudono dopo parecchio tempo, sperando qualche cambiamento che in realtà difficilmente poi avviene. Allora, perché accade questo? Beh, accade questo perché la decisione di lasciarlo sarebbe una decisione logico-razionale, perché a vivere su una relazione esclusivamente di carattere sessuale è la parte logica che comunque ci soffre, non è né certo né la parte emotiva e neanche la parte istintiva, perché la parte emotiva potrebbe essere neutra. La parte istintiva, comunque, diciamo, l'accoppiamento dell'istinto è sempre, come dire, un canale che porta, diciamo, alla conservazione della specie e la parte logica, che si sente umiliati e che si sente usati, diciamo, questo mi cerca solamente per fare sesso, vado bene solo per fare sesso, mentre invece poi non vuole altro tipo di coinvolgimento. Ecco quindi che è la nostra parte logica, la parte logica delle donne che soffre. E spesso però accade che, siccome la parte emotiva non vuole perdersi l'approvvigionamento emozionale vissuto, anche se minimo, o comunque può essere proprio un approvvigionamento emozionale di frustrazione dato da questa relazione, è come dire, resta vincolata a questa persona e inizia a dire, ma ne sono innamorata, ma questa persona mi piace, ma trova tutta una serie di motivazioni tali per cui non si sgancia da questa persona, pilota la parte logico e razionale a rimanere coinvolta da questa persona. A tutto questo si possono aggiungere situazioni in cui magari la persona vive un senso di solitudine o un senso di abbandono, per cui preferisce, diciamo, emotivamente sempre restare vincolata in una relazione esclusivamente a caratteri sessuali piuttosto che, diciamo, chiudere la relazione. O comunque, quando chiude la relazione, spesso questa chiusura si tramuta in rabbia, si tramuta in rabbia e che poi si può toccare anche contro se stessa. Insomma, il discorso di fondo è che una donna, in realtà, una sua parte si accorge subito quello che è l'interesse del macchio, ma pilotata dalle parti emotive, dalle parti istintive, questo, diciamo, questa sensazione viene rimossa e per cui riemerge poi col tempo, dopo reiterate volte in cui la relazione si svolge soltanto a carattere sessuale. Ecco, quali consigli dare alle donne per sgamare prima, diciamo, il maschio interessato alle relazioni di carattere sessuali? Beh, intanto ci sono molte modalità per capire tutto questo. Dobbiamo tenere presente anche un fatto statistico, che non è di secondaria importanza ed è legato all'età. Perché spesso le donne che si lamentano di questa situazione, non sempre, ma spesso le donne che si lamentano di questa situazione, sono donne che si relazionano con maschi molto più giovani, anche di 10-15 anni. Facciamo un esempio, una donna di 50 anni che si relaziona con un uomo di 35, dovrebbe avere dall'inizio ben in testa che un maschio di 35 anni, in una donna di 50, al 90%, qui non è detto che sia sempre così, ma al 90% oltre al sesso non cerca nulla. Perché la sua parte logico-razionale, a meno che questa donna non riesca a coinvolgerlo, a sollecitare tutte le emozioni, ma già la sua parte logico-razionale è parte prevenuta, parte prevenuta per tutta una serie di motivazioni, legate ad esempio anche alla prospettiva di una vita futura, comune, legate al discorso proprio anche, ad esempio, della riproduzione, legate a tanti fattori, anche fattori culturali. Ecco, quindi, in queste situazioni è praticamente, cioè una donna che si relaziona con un maschio da 10-15 anni più giovane di lei, dovrebbe, come dire, sapere che statisticamente, almeno al 99% è probabile che questo maschio da lei voglia solo sesso. Questo non esclude che ci possa essere un 1, 2, 3% che invece vuole una relazione stabile, per carità, però va approfondita molto la cosa, insomma, deve partire già un po' sulle difensive. Un po' sulle difensive, diciamo, dovrebbe esserci sempre la donna, proprio per il discorso fatto prima, che l'istinto del maschio è distinto all'accoppiamento con più donne. Quindi, come deve comportarsi una donna per… beh, intanto può fare alcuni test di verifica preliminare, perché il test di verifica preliminare deve essere legato, diciamo, a vedere quanto quest'uomo è disposto a fare per lei. dobbiamo tenere presenti due fattori che spesso, ad esempio le donne mi dicono, prima che iniziassimo una relazione sessuale lui faceva chissà che cosa, era disposto a scalare le montagne per me, era disposto, che ne so, mi veniva a prendere, mi portava a cena, faceva delle cose straordinarie, un corteggiamento micidiale, rose, fiori, eccetera, eccetera, e poi, dopo che ci sono stati dei rapporti sessuali, basta, mi cercava solo per il sesso e non voleva nient'altro. Ora, dovete tenere presente, donne, questo, che è un uomo che si fa eccessivamente, un corteggiamento eccessivo, cioè che, senza neanche chiedere, inizialmente, fa delle cose, diciamo, eccessive rispetto, diciamo, a una relazione normale, diciamo, no? Cioè, nel senso, vedete che proprio fa delle cose, come dire, con un entusiasmo particolare. Allora, dovete tenere presente che questo entusiasmo è pilotato al 99% dalla sfera sessuale, dall'aspetto istintivo, che una volta però esaurito la spinta sessuale, perché di fatto ha consumato, decade tutto, decade tutto. Per cui, chi fa troppo, tenete presente questo, questo vale in ogni situazione della vita, chi si manifesta troppo in un senso è perché all'interno c'è l'istanza opposta. Cioè, persone, ad esempio, che sono eccessivamente, per fare un esempio per capirci, persone che sono eccessivamente precise, pignole, metodiche, eccessivamente è perché sono disordinate persone che sono, diciamo, eccessivamente contenute, che non manifestano mai, ad esempio, la rabbia, che non manifestano mai l'ira, è perché dentro hanno una forte rabbia compressa, che potrebbe un giorno poi esplodere. E quindi persone che invece si manifestano eccessivamente, come dire, coinvolte, dall'inizio, subito, senza neanche aver conosciuto la persona, perché normalmente il maschio che, diciamo, va alla ricerca di sesso, manifesta il coinvolgimento istantaneamente, rapidamente, senza neanche aver conosciuto la persona, senza neanche averla frequentata. Inizia subito a fare delle cose, a tempestare di telefonate, a dire, ti voglio passare a prendere, se ti penso tutte le sere, senza neanche averla conosciuta. Quando una donna si trova di fronte a una persona del genere, deve tenere presente che è molto probabile che successivamente avvenga il ribaltamento. Quindi, a questo punto ha due possibilità, o verificarlo, e quindi prova, prova, ci va a detto una volta, e vede che succede dopo. Se dopo la persona inizia a non cercherla più, inizia a… l'unica cosa che deve fare è non accettare di essere, diciamo, cercata soltanto per uno soddisfacimento sessuale, per cui a quel punto lì gli conviene chiudere immediatamente la relazione. Per poter chiudere la relazione senza soffrirne, uno deve aspettare a coinvolgersi. Aspettare a coinvolgersi vuol dire avere la capacità di gestire le proprie emozioni. In tutte queste strategie la cosa importante è avere la capacità di gestire le proprie emozioni, perché è ovvio che se uno è affamato si mangia anche i topi morti, pensando che, insomma, possono essere un buon cibo. Se uno non è affamato, non se li mangia. Quindi, primo comportamento è chi immediatamente, istantaneamente ti fa un corteggiamento sfrenato, un corteggiamento, diciamo, eccessivo, senza neanche conoscerti, e di fatto è interessato soltanto all'aspetto sessuale, è interessato soltanto all'aspetto erotico. E quindi, al 90%, questo una volta che avrà ottenuto, come dire, un accesso sessuale, non ti cercherà più, o ti cercherà raramente soltanto quando avrai esigenza sessuale. E invece una persona che cerca di conoscerti, quindi, come dire, non effetto un grande corteggiamento, cioè con rose, champagne, cene o quello che è, ma cerca di conoscere la persona, quindi cerca di stabilire un contatto anche intellettuale con quella persona, quindi cerca di comunicare. E il sesso, diciamo, viene di conseguenza, ma a seguito di un contatto, cioè i primi agganci non sono basati soltanto sull'attrazione, perché se sono basati solo sull'attrazione è evidente che quello è, ed è disposto magari a mettere in scena tutto un corteggiamento anche per dire eccessivo, ma semplicemente per avere l'accesso all'aspetto sessuale. Invece una persona che dimostra un interesse diverso è più probabile, non è certo, ma è più probabile che voglia valutare una possibile relazione. E soprattutto le persone che sono interessate soltanto alla sfera sessuale erotica non vi frega neanche tanto del tuo carattere, per cui andrà immediatamente bene tutto quello che tu farai fin tanto che non hanno avuto un accesso sessuale. Dopo non è andato più bene niente, ma inizialmente sì, perché il loro obiettivo è quello, quindi loro sono, come dire, agganciati dall'aspetto visivo, dal fisico, dall'aspetto erotico, quindi per tutto il resto passa in secondo piano, fin tanto che non hanno avuto un accesso. Mentre una persona, un maschio, che invece ha un altro genere di intenzioni, quindi può avere una relazione, anche lui alla ricerca di una relazione, cercherà un confronto, cercherà di stabilire un dialogo con te e metterà anche in evidenza aspetti del tuo carattere che non gli piacciono e eventualmente sarassi interessato alla sfera sessuale, ma non sarà questa l'unica esclusiva molla, per cui ti evidenzierà quelli che sono gli aspetti tuoi che non gli piacciono, prima di fare sesso ovviamente. Questo è un buon indicatore, un buon segnale che probabilmente la persona non è interessata soltanto e esclusivamente alla parte sessuale, insomma. Quindi chi manifesta un eccesso, diciamo, di corteggiamento e viceversa, anche chi ne manifesta troppo poco, è anche lì è probabile che comunque non si è interessato tanto a conoscerti, ad approfondire la conoscenza del tuo carattere, perché è una persona che vuole avere una relazione a lungo termine con te, cerca inizialmente di interessarsi alla tua vita, interessarsi al tipo di relazioni che hai, al fatto che ne so se hai figli, se non hai figli, che relazione hai, che tipo di situazione stai vivendo, perché potrebbero esserci delle cose che lo bloccano, per dire, e quindi potrebbe etichettarti come amica. E quindi qua ci sarebbe poi tutto da capire come farla sbloccare per passare da amica, diciamo, ad amante, perché paradossalmente uno che inizialmente ti identifica come amica è perché ha valutato, diciamo, alcuni aspetti interessanti di te, ma c'è qualche blocco a questo punto logico-razionale, qualche può essere, non so, dalla differenza d'età, dalla differenza sociale, tutta una serie, differenze culturali, tutta una serie di cose, però c'è già un aggancio, cioè perlomeno, come dire, i tre pilastri, almeno i due pilastri sono abbastanza soldi, che sono, diciamo, l'aspetto, come dire, di intimità, quindi di scambio reciproco e la comunicazione non verbale in generale, quindi è una persona che non ti vuole perdere, quindi non mette sesso esclusivamente perché c'è qualche blocco logico-razionale, nella maggior parte dei casi, che li impedisce. Ecco, poi, altri segnali che possono emergere sono invece di natura prevalentemente non verbale, quindi anche in questo caso puoi fare dei test, puoi dire, ad esempio, buttare là una frase del tipo, ah, mi piacerebbe avere una relazione stabile, duratura, con un uomo che mi ami e che voglia bene e che si prenda cura di me, faccio un esempio, buttandoli, parlando magari con questa persona. Se lui ti dice, sì, sì, anche a me piacerebbe tanto e dice una cosa, ma emotivamente dà un segnale che è questo di rifiuto, significa che in realtà se tu ti metterai con lui, sicuramente ti cercherà solo per il senso e basta. Altre situazioni sono quello, escusazione non petita, accusazione manifesta, cioè ci sono certi uomini che senza che tu gli chiedi niente ti dicono, ah, io vorrei proprio avere una relazione stabile, tu sei la persona giusta per me, perché mi piaci proprio e mi immagino già come saremo in futuro assieme, io e te. Ecco, uno che fa un discorso del genere senza che tu gli chiedi niente, è probabile che dentro ci sia esattamente il sentimento opposto, perché noi tendiamo ad esternare, non sono citati, l'inverso di quelle che sono le nostre istanze motivi. Tu dice mi ha mentito, non è che ti ha mentito, è che lui ha esternato una cosa, ma l'ha esternata come meccanismo difensivo e la parte interiore ha esattamente, diciamo, il sentimento contrario. Ecco quindi che, beh, ci sono altre modalità, però queste sono già indicazioni importanti che possono permettere di discriminare tra il maschio che cerca una relazione stabile e quello che invece cerca soltanto uno sfogo di natura sessuale. Vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguire i miei sui blog http www.soluzionevip.com. Ciao a tutti!